A destato notevole interesse l'incontro promosso dal neocostituito gruppo spazio conservatore che sabato scorso presso l'aula consigliare del comune di Sant'Arsenio ha proposto un'ampia e partecipata discussione sul tema della riforma del premierato che negli ultimi mesi sta tenendo banco e che rappresenta una delle principali riforme a cui sta lavorando l'attuale governo. Una riforma che punta alla diretta elezione del presidente del consiglio da parte dei cittadini che di conseguenza saranno chiamati a scegliere direttamente il premier come già accade in diverse altre nazioni europee, assegnando anche nuovi poteri all'eletto. Una riforma su cui il gruppo di spazio conservatore ha voluto coinvolgere favorevoli e contrari al fine di cercare di offrire ogni possibile spunto nella riflessione dedicata al tema e riuscire quindi meglio ad interpretare tale eventuale riforma. Sabato scorso, dunque a Sant'Arsenio, l'incontro moderato dal sindaco di Montesano, nonché membro del gruppo associativo organizzatore Giuseppe Dinaldi, è stato incentrato su un'analisi profonda dei vari aspetti della possibile riforma con due eminenti giuristi a presentare le ragioni della positività e della negatività di una tale riforma, ossia Guiglielmo Scarlato, avvocato e professore universitario e in passato parlamentare della democrazia cristiana, e Barcello Feola, anche egli noto giurista e già assessore provinciale ai lavori pubblici. Dopo i saluti del sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica e l'introduzione all'incontro a cura di Giovanni Graziano per il gruppo organizzatore, il sindaco di Montesano, Rinaldi, ha dato il via ai lavori, partendo con la relazione dell'avvocato Scarlato, che ha illustrato i dubbi sulla riforma. Scarlato si è detto non pregiudizialmente contrario alla riforma, tuttavia ha mosso dei rilievi di metodo e di merito. Sul piano metodologico ritiene che un Parlamento di nominati non sia legittimato a modificare la Costituzione, meglio sarebbe cambiare a monte la legge elettorale, eliminando le liste bloccate e procedere dunque alla riforma al Parlamento rinnovato. Nel merito ha elencato ed argomentato tutta una serie di contrappesi che nell'archività archetipo istituzionale verrebbero meno a fronte di un rafforzamento del potere esecutivo. A spiegare invece le ragioni del sì e rispondendo dunque alle questioni sollevate da chi lo ha preceduto, l'avvocato Marcello Feola, che ha invitato a distinguere il tema legge elettorale dalla riforma del premierato, soffermandosi successivamente sugli effetti positivi di tale riforma che andrebbe a riprendere quanto già avviene per le elezioni di presidenti di regione e sindaci, garantendo anche la governabilità. Solo dopo una tale riforma si potrà procedere ad una modifica della legge elettorale che per Feola non potrà comunque essere proporzionale. Entrambi i relatori hanno manifestato la loro contrarietà sul tema delle liste bloccate, ritenendo utile coinvolgere i cittadini in un ampio dibattito sull'argomento. La serata è proseguita poi con gli interventi dal pubblico, a cui hanno risposto i due relatori, offrendo ulteriori chiarimenti in merito alla riforma. Il successo dell'iniziativa e il format utilizzato, hanno commentato gli organizzatori di Spazio Conservatore, spingono a replicare l'evento su tutto il territorio provinciale, naturalmente allargando la discussione anche ad altri argomenti di strettissima attualità ed interesse.